Il mio libro è stato scritto da Carlo Locke, uno scrittore milanese. Sono stato concepito per 370 pagine e ho avuto il compito di farvi leggere la storia di un ragazzo milanese, Günther, uno di quei tanti oppressi che popolano la nostra società, ma che al contempo sa fuggire dalla propria condizione e trovare una dimensione positiva al cambiamento. Günther trova questa dimensione nel BDSM. Ma che cos'è veramente il sadomasochismo oggi? Se pensate che io sia il solito romanzo erotico, allora chiudetemi subito. Non ho niente a che vedere con 50 sfumature di grigio, anche perché il mio protagonista non possiede elicotteri personali. È semplicemente un disoccupato. Ebbene, se volete scoprire chi è il mio protagonista, allora cominciate a leggermi piano piano. Ma non vi stancate, mi raccomando, tenete duro e vi prometto che non ve ne pentirete.